Rabbia ma soprattutto delusione, quanto emerge dalla lunga lettera aperta con la quale la campionessa olimpionica di palanuoto Giulia Gorlero ha rassegnato oggi le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale d'Imperia, proprio poche ore prima di una nuova seduta del Consiglio. La Gorlero nella sua lettera si scusa con coloro che l'hanno votata, sottolineando di essersi trovata fin dall'inizio di fronte ad un muro di gomma, creato da personalismi e strategie politiche. Secondo Giulia Gorlero, più che le sue assenze legate agli impegni sportivi, hanno dato fastidio le sue presenze in Consiglio Comunale ed il fatto che non votasse seguendo la maggioranza ma ragionando. La Giulia olimpionica appunto anche il dito su alcuni giornalisti pronti a parlare male alle spalle di una persona e a cavalcare l'onda quando invece le incontrano. Il rospo più doloroso da ingoiare per la Giulia resta quello di essere servita solo per prendere voti. Al posto di Giulia Gorlero, eletta nelle file del laboratorio per Imperia, dovrebbe entrare in Consiglio Simone Suriano, che però da alcuni anni vive in Svizzera e potrebbe quindi lasciare il posto a Giovanni Lazzarini.